Noi come articolo 21 siamo qui anche per consegnare la carta d'assisi al cardinale Zuppi. Noi come articolo 21 abbiamo preparato negli anni ad assisi nel Sacro Convento una sorta di dichiarazione di fratellanza mediatica. Perché di fratellanza mediatica? Perché discende da quella dichiarazione di fratellanza che il Papa ha firmato col mondo musulmano, col lettore dell'Università del Cairo. Una dichiarazione dove si mette al centro la necessità di ascoltare le differenze e le diversità, di rispettarle ma per costruire un percorso di inclusione e di dialogo. Quella carta, la carta di Assisi, è stata firmata dalla comunità valdezza, è stata firmata dalla moschea di Roma, hanno concorso varie famiglie religiose, i gesuiti, i francescani, i padre Spadaro, i padre Occhetta, è stato firmato da Sant'Egidio, è stato firmato dal centro Astaglie, chi sa quanto ne dimentico, la comunità ebraica. E pone al centro proprio questo tema, di usare le parole non per ammazzare le differenze e le diversità, ma usare le parole per favorire la conoscenza. E dice anche che ogni parola va giustificata, che le cifre e i dati, guardate come attualità, sono essenziali e che nessuno può essere cancellato per la sua identità politica, religiosa, per la sua provenienza. E dà una grandissima attenzione a dare la voce agli ultimi, perché quando agli ultimi la voce la sottrai, tu le metti in una condizione di rabbia, di ribellione, di silenzio. La nostra proposta, l'idea, è di consegnare questa carta, ovviamente con grande rispetto e con grande umiltà, al cardinale. Consegnaglierla anche come presidente della conferenza episcopale e proporre un incontro, non un incontro con le telecamere, non uno spettacolo, ma un incontro tra tutte queste associazioni, tra le diverse comunità, di credenti, diversamente credenti e non credenti, proprio perché la carta dei valori, l'abitudine a ragionare sulle parole, e quindi arrivare il giorno prima dell'eliminazione, della guerra, dello scontro e non il giorno dopo, possa diventare anche coscienza da costruire quotidianamente. E consegno la carta d'Assisi al cardinale Zuppi. Grazie. Ringrazio tantissimo per la carta di Assisi dell'articolo 21. Ne farò tesoro e troveremo il modo per che sia una carta che continui a parlare, perché contro i muri mediatici è il problema dell'odio, della violenza che viene instillata con il digitale e con una comunicazione negativa, incendiaria, che sollecita il pregiudizio, nutre il pregiudizio, l'ignoranza. Guardate che sono tutte premesse per quel fascismo di cui si parlava prima. Quindi farò tesoro di questa carta, troveremo il modo, se sarà a Bologna ancora meglio, perché credo che vogliamo che sia un luogo di incontro, non un crocevia, ma un vero luogo di incontro dove conservare il passato e immaginare il futuro. Vorrei chiedere al cardinale Zuppi dell'intervento che Papa Francesco ha fatto condannando le fake news e puntando il dito sulla tossicità di alcuni siti. Dunque la pelle è stata ripetuta molto forte, necessario, poi dobbiamo stare anche a noi ovviamente, anche riprenderlo, perché diciamo così, certe abitudini non sono un tasto, non è che diciamo stacco come diciamo nel computer, sono anche molto, purtroppo c'è anche un uomo digitale, è un'antropologia digitale, cioè per cui tante volte anche un po' compulsivo. Leggo, perché mi sono letto la carta, l'ho approfittata, è molto breve ed è bellissima, davvero complimenti all'articolo 21 perché è molto, leggo a proposito delle bombe che vengono dalla, come le parole possono uccidere, sono dieci punti, il quinto, se male utilizzate le parole possono ferire e uccidere, ridiamo il primato alla coscienza, è appunto quella che manca diciamo nei leoni, negli odiatori da tastiera, la violenza dai nostri siti e blog, denunciamo gli squadristi da tastiera e impegniamoci a sanare i conflitti, le parole sono pietre, usiamole per costruire ponti. Mi sembra questo punto, il quinto, in questo decalogo diciamo così, proposto da articolo 21, mi sembra molto importante, ce n'è uno che fa sempre bene, il settimo, non pensiamo di essere il centro del mondo, non è male, anche tra i giornalisti, anche tra i cardinali, poi non ne parliamo, ma non pensiamo di essere il centro del mondo, il vero giornalista fa l'altro, il centro del mondo e lo sa interpretare e capire, diamo corpo alla notizia e portiamola alle piazze di Giaio, voglio finire con due cose, quest'anno sono 800 anni, siccome il punto numero 10 è appunto San Francesco di Assisi, operò una rivoluzione, portare la buona notizia nelle piazze, anche oggi una rivoluzione ci attende nelle nuove agorate della rete, diamo corpo alla notizia, portiamola nelle piazze digitali. Quest'anno sono 800 anni dalla predica che San Francesco tenne nella piazza davanti al comune, in Piazza Maggiore, proprio la piazza davanti al comune a Bologna, e chi assistette alla predica notò che, detto male sarebbe, non parlava da prete, dice non sembrava che predicasse, ma che conversasse. La differenza non è da poco, cioè voleva dire che parlava direttamente, che parlava in italiano, tra l'altro rispetto appunto ai tanti latini. Credo che questi articoli vanno bene per tutti, a mio parere, vanno ripetuti a tutti quanti. Grazie.